Il grande fratello continua a riservare sorprese e colpi di scena e tra i concorrenti si intensificano le tensioni. In particolare il rapporto tra Elena Prestes e Shai la gatta sembra essere sempre più teso. Le due giovani donne, protagoniste di accese discussioni, hanno dimostrato che tra loro non scorre affatto buon sangue. La rivalità è emersa in modo evidente durante una recente elite che ha catturato l'attenzione del pubblico e degli altri concorrenti. Il motivo scatenante di questa nuova discussione è stato un commento di Maria Vittoria che ha riferito a Shai la che i fan club delle due concorrenti avrebbero voluto vederle unite in un'alleanza. Questo ha infastidito Gatta che ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali fan club contrariamente a Prestes. La tensione è aumentata quando Shai la ha accusato Elena di essere gelosa dando inizio a uno scambio di parole accese. Elena ha risposto con fermezza, affermando di non provare più alcun interesse per Lorenzo, il ragazzo che ha diviso le due ragazze. La discussione ha preso una piega inaspettata quando Elena ha accusato Shai la di essere stata volgare durante una puntata del reality. Ha fatto riferimento a gesti scaramantici che l'ex velina ha compiuto in diretta, sottolineando come tali comportamenti possano influenzare negativamente i giovani telespettatori. La tensione tra le due è palpabile e i loro scambi di accuse hanno reso evidente che la rivalità non è destinata a placarsi. Shai la da parte sua ha cercato di giustificare il suo comportamento, ma le parole di Elena hanno colpito nel segno, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi. La situazione all'interno della casa del grande fratello è sempre più complessa, con dinamiche che si intrecciano e rivalità che si intensificano. La faida tra Elena e Shaila è solo uno dei tanti elementi che rendono questo reality così avvincente. Gli spettatori sono curiosi di scoprire come evolverà la situazione e se le due concorrenti riusciranno a trovare un punto d'incorso.